Nel 2017 c'è chi non è dotato di macchinetta per il Bancomat e le carte di credito, lasciando stare il fatto che l'obbligatorietà dei pagamenti tracciabili via Bancomat è ormai quasi legge, il fatto che una società che organizza eventi non dia la possibilità di pagare con le carte sembra assurdo. Ne sa qualcosa una fan sfegadata di Vinicio Capossela che venerdì sera dopo essere riuscita a sistemare figli, cani e marito, chi urgo all'ospedale Papardo, non essendo riuscita ad acquistare tramite la piattaforma Ticket One il biglietto, altra cosa assurda, dava il sold out, si è regata al botteghino del Teatro Vittorio. Il posto c'era in platea, 45 euro e allora ha tirato fuori il Bancomat, niente da fare, e allora la carta di credito, niente da fare, quindi ha cercato in borsa e ha messo in mano a chi gestiva il botteghino tutto quello che aveva, 20 euro e ha proposto di lasciare impegno alla sua carta di credito e magari un suo documento alla faccia della fiducia. Dall'altro lato un secco di niego, nulla da fare, la fanno in questione, delusa e arrabbiata, gli addetti le hanno bloccato il passo e è tornata a casa, dai figli, dal marito e dai cani. Capossela lo ha ascoltato sul tablet, almeno quello nel 2017 funziona, ma Vinicio Capossela, spettacolo straordinario, dicono coloro che lo hanno visto, tutto questo lo sa. Dal parte del sovrintendente, Giro Bernavo, una replica breve, avevamo solo una compartecipazione sullo spettacolo, ciò non toglie che tutto questo è davvero increscioso. Nei nostri spettacoli abbiamo due postazioni di Bancomat, in questo caso la vendita era gestita da una società palermitana che organizzava Chiederò spiegazioni, chiederò conto e ragione, chiedo scusa per quanto ci riguarda.